Per tre giornate, Sera Santabogno farà un tuffo nel Medioevo con il Palio della Rocca, un evento organizzato dalla Proloco e dal Comune. Qual è il programma? Si parte il venerdì dalle 5 e mezza, c'è una mostra di musica e c'è un convegno a tema. Dopodiché si aprono con un banchetto medievale, la cerimonia che accompagna gli ospiti del banchetto. Ci sarà il giuramento degli ocari, che daranno il nome alla propria oca e viene fatta l'estrazione dei posti di partenza, quindi una cerimonia di apertura del Palio. Poi ci sono i banchetti e le taverne aperte con le tipicità del posto. Il sabato si comincia sempre alle 5 e mezza, si aprono le osterie, ci sarà la cerimonia con giocolieri, mangiafuoco, spettacoli in genere medievale. In più ci sarà la corsa delle donne, che si competono il Palio di San Biagio, che è il nostro copatrono, e poi dopo la serata andrà avanti con banchetti, musica e spettacoli. La domenica invece si comincia, che è la giornata principe del Palio, si comincia con il corteo alle 4, ci sarà la corsa dei Monelli alle 5 del pomeriggio, alle 6 seguirà la corsa dei Grandi, che è quella che è la più attesa, dove si compete il Palio di Sant'Abbondio. Tutto quanto verrà accompagnato sempre da armigeri, mangiafuoco, giocolieri, musica itinerante. Ci saranno tre taverne aperte per poter mangiare e ospitare tutti quanti gli ospiti. Tra i vari spettacoli abbiamo anche i falconieri, ci saranno dei banchetti di antichi mestieri, dove si potranno vedere magari i mestieri medievali, come venivano fatti, eccetera, questo sia il sabato che la domenica. Il venerdì abbiamo anche uno spettacolo teatrale, che viene fatto dai ragazzi del posto, che stanno preparando già da giorno. Il Palio si conclude domenica con fuochi d'artificio e poi ci saranno, diciamo, la musica con i Sisal Piper. La consegna dei premi viene fatta il 16 settembre, perché comunque una consegna dei premi viene fatta a Sant'Abbondio, quindi al nostro patrono, e viene fatta in chiesa. In quella data faremo la cena della pace, è una cena tradizionale in cui i castelli si rappacificano dopo la gara e quest'anno, per la prima volta, siccome cade di sabato, abbiamo organizzato un concerto con gli sciampisti, quindi ci sarà anche il concerto, la possibilità anche di mangiare e bere anche per gli ospiti. Quindi aspettiamo tutti quanti al Palio della Rocca, a Sera Sant'Abbondio, l'8, 9, 10 di settembre, chi vuole anche il 16 che abbiamo in concerto.